Allora, buongiorno a tutti. Oggi riprendiamo con quell'esercizio sull'ORM che abbiamo fatto la scorsa volta. Allora, ricordiamoci un attimo l'ORM. Cosa serve? L'ORM serve a mappare le relazioni che si trovano nel database e mapparle in Java. Ci sono tre regole, che sono tre tipi di relazioni, 1 a 1, 1 n, n a m. Per mappare le relazioni sfruttiamo i riferimenti in Java, i riferimenti tra gli oggetti in Java. E in particolare in una relazione esiste una sergente di una destinazione, guardiamo sempre la destinazione, la cardinalità della destinazione. Se E1 diventa un singolo riferimento a quell'oggetto che inseriamo nell'oggetto sorgente, nella classe dell'oggetto sorgente, se invece la cardinalità è n, inseriamo una lista nell'oggetto sorgente dove poi andiamo a inserire i vari riferimenti. Quindi, l'altra volta avevamo fatto, avevamo iniziato a vedere la soluzione del laboratorio 4 secondo il pattern ORM e in particolare avevamo creato una classe model dove avevamo, a parte creare i vari riferimenti al DAO, avevamo aggiunto due liste, quella dei corsi e quella dei studenti e poi una map, una mappa, che è questa idmap, che è quella che serve per essere sicuri di avere ogni istanza di ciascun oggetto relativo ad ogni entry del database una e una sola volta nel programma Java, perché vogliamo evitare di avere più oggetti relativi alla stessa entry del database. L'obiettivo che ci avevamo posto era quello di implementare questo metodo, get tot credit from student, ossia sapere quanti sono i credit totali dati a uno studente, volevamo farlo però in ottica ORM, quindi sfruttando il pattern ORM. Avevamo quasi finito di implementarlo, mancava, per farlo compilare dovevamo commentare questo metodo, il test DAO, perché è schiambiata la signatura dei metodi, quindi direi commentiamo test DAO così non abbiamo più errori. E se andiamo su model, abbiamo caricato gli studenti, abbiamo caricato i corsi per ciascuno studente, adesso andiamo a calcolare la somma dei crediti per quello studente. Ora non dobbiamo più fare query, tutto è in memoria, quindi quello che facciamo è, andiamo a implementare il metodo tot credit from student, creiamo una variabile somma, dove mettiamo la somma, poi iteriamo sugli studenti, e diciamo, no scusate, sì, iteriamo sugli studenti perché abbiamo solo la matricola, quindi dobbiamo cercare lo studente corrispondente alla matricola. Quindi ci chiediamo se s.get matricola è uguale a matricola, in questo modo cerchiamo linearmente lo studente, allora iteriamo sui corsi, for corso c, due punti, s.get corsi, quindi prima iteriamo lo studente, poi iteriamo sui corsi, e a questo punto sum più uguale a c.get crediti, quindi sommiamo i crediti totali corrispondenti a quello studente. E alla fine, dopo questo ciclo for, facciamo return sum, e dopo l'if mettiamo l'istruzione break, break serve per terminare il ciclo di ricerca quando troviamo scusate, serve per terminare quando troviamo una matricola, una corrispondente, scusate, ho detto una stupidaggine, perché se facciamo return, tanto termina lo stesso il ciclo, quindi è inutile mettere l'istruzione break. Quindi, data la matricola, cerchiamo linearmente lo studente, una volta trovato lo studente, iteriamo sui corsi, e facciamo la somma di crediti per tutti i corsi. Se invece non troviamo lo studente, ritorniamo a meno uno. Così, nel test model, posso anche fare il controllo, se vedo che viene ritornato meno uno, vuol dire che quella matricola non ha nessuna corrispondenza. Quindi, siamo nel test model, decommentiamo queste istruzioni, cerchiamo una matricola da inserire, esempio questa qui, 146101. Quindi, il risultato è il numero dei crediti totali per questa matricola che poi stampo. Quindi, se abbiamo implementato tutto correttamente, dovremmo ottenere che il totale dei crediti è 40, che è un numero plausibile. Quindi, c'è qualche domanda su questo esercizio? Quello che abbiamo fatto è semplicemente sottoportare quasi tutte le informazioni che avevamo nel database, portarle in memoria e poi lavoriamo soltanto in memoria. In ottica, laboratorio 4. Cosa veniva chiesto nel laboratorio 4 che possiamo implementare sempre seguendo il pattern ORM? Quindi, è tutto chiaro, domande non ne avete su questa parte? Nell'esercizio 4 veniva chiesto dato data la matricola stampare il nome e il cognome. Questo è banale perché una volta che fanno le informazioni sugli studenti significa semplicemente fare una ricerca lineare sulla collezione degli studenti e poi ritornare le informazioni relative a quello studente. Quindi, questo eviterei di implementarlo. Implementiamo magari questi ultimi punti che sono un pochino più più complessi. Quindi, selezionato un corso, punto 3, selezionato un corso da menu tendina e facendo clic sul pulsante cerchi di iscritti corsi vengono visualizzati tutti gli studenti iscritti a quel corso. Quindi, abbiamo un corso e vogliamo gli studenti che sono iscritti a questo corso. Questo si può fare bene con il pattern ORM in modo semplice. In realtà, per come adesso ho implementato abbiamo i corsi dati agli studenti ma non abbiamo gli studenti dato un corso perché abbiamo semplicemente implementato le relazioni dal lato studente. Infatti, qui iteriamo su tutti gli studenti e aggiungiamo i corsi a cui è scritto quello studente. Dobbiamo fare il rispettivo sui corsi quindi dobbiamo ciclare sui corsi e implementare le relazioni anche dall'altro lato. Quindi, stessa cosa che abbiamo fatto sopra la rifacciamo siamo nel costruttore del model for corso c due punti corsi i corsi li abbiamo già caricati prima s dao punto get studenti from corso a cui passiamo c e poi passiamo studente map studente map non l'abbiamo creato prima dobbiamo crearlo adesso studente map è quella classe che implementa il pattern identity map quando ci serve creare una classe identity map tutte le volte dobbiamo creare una classe identity map per ogni java bin perché il java bin è quella classe che salva le informazioni che vengono prese dalle tabelle del database tutte le tabelle che non che non sono tabelle esclusivamente di relazione quindi sono quelle tabelle in cui effettivamente ci sono delle entità delle informazioni di di quell'entità salvata quindi servono identi map per il corso servono identi map per lo studente ovviamente creiamole soltanto se poi le andiamo a utilizzare esempio prima non l'ho creato perché tanto mi serviva semplicemente la somma dei crediti per quello studente quindi non mi serviva l'identity map di corso scatto l'identity map di studente perché non andavo a inserirli all'interno della classe corso ora invece mi serve quindi private get studente id map studente map questa è una variabile globale che vado a inizializzare subito sotto corso map studente map uguale new studente id map e poi la vado ad utilizzare in get studenti from corso quindi andiamo a creare la classe studente id map studente id map è molto simile a corso id map quindi farei che copiarla e incollarla questa volta la chiamiamo studente id map così almeno la struttura rimane identica quello che devo andare poi a cambiare sono semplicemente le informazioni perché questa volta la mappa che è salvata dentro studente id map non è tra string e corso ma è tra integer perché la matricola è un int e studente quindi la chiave della mappa è la matricola che è anche la chiave primaria della tabella corrispondente nel database poi dentro il costruttore creo una hash map correttamente devo cambiare questi due metodi il metodo get e il metodo put i getter e setter che sono simili ai getter e setter in realtà non sono di getter e setter ma sono semplicemente un wrapper sui metodi get e put della hash map quindi al posto di corso scrivo studente qui cambia sia il valore di ritorno sia la variabile poi scrivo studente hold uguale map punto studente punto get matricola ricordiamoci cosa fa questa istruzione questa istruzione cerca nella map nella mappa se esiste già uno studente associato a quella matricola se hold che è il riferimento al valore di ritorno del metodo get sulla mappa è null vuol dire che nella mappa non c'è questo studente se non c'è lo vado a inserire e lo posso inserire perché glielo passo passo già un oggetto creato studente come variabile quindi map punto put studente punto get matricola studente e in questo caso ritorno studente quindi l'oggetto creato e passato come variabile come parametro altrimenti ritorno hold quindi il riferimento a studente viene dimenticato e ritorno hold che è l'oggetto già esistente nella mappa input stessa cosa devo passare un integer matricola e uno studente e un oggetto studente e quello che faccio nella mappa è inserire matricola virgola studente tutto chiaro anche sulla parte dell'identity map è un pattern abbastanza semplice semplicemente è la creazione di una mappa che serve per evitare che gli oggetti siano che ci siano oggetti duplicati nella in tutto il programma oggetti riferiti alla stessa entry del database quindi fatto questo torniamo nel model e dobbiamo adesso implementare il metodo get studenti from corso quindi create method get studenti from corso cosa fa questo metodo? fa la stessa cosa che in corso DAO faceva questo metodo get course from studenti quindi semplicemente restituisce tutte le informazioni di uno studente scusate restituisce tutte le informazioni su quali sono gli studenti dato un corso qual è la query sql string sql uguale select s.matricola s.nome s.cognome poi non mi ricordo quali erano le altre informazioni salvate matricola cognome nome cds from studente virgola studente s mettiamo anche l'alias virgola iscrizione as i where s.matricola uguale a i.matricola and i.codins uguale a punto interrogativo perché questo è il parametro che passiamo quindi controlliamo di non aver fatto errori nella query testando la prima su SQL pro o id quindi select matricola nome cognome manca una virgola cds cds dalle tabelle studente iscrizione dove faccio il join tra la tabella studente e la tabella iscrizione e seleziono soltanto quelle entri di iscrizione dove il codice di insegnamento è identico a quello che gli passo prendiamo un codice di insegnamento a caso ad esempio il primo 0,1 n,b a,p,g run all qual è il problema urs.matricola uguale i.matricola e i.codice uguale iscrizione matricola matricola questa parte ah perché c'è una virgola in più qui ok ok quindi era tutto corretto c'è la seconda una virgola in più qua dopo la i che andava rimossa in questo modo semplicemente seleziona gli studenti iscritti a quel determinato corso per tutti per tutte queste entry in java devo creare un oggetto corrispondente un oggetto studente che salvi l'informazione relativa a ciascuna entry quindi come al solito devo andare ad implementare il solito pattern try catch connection con connectdb get connection quindi prima cosa creo la connessione secondo creo il prepare statement terzo setto il codice di insegnamento dentro il prepare statement quindi st punto set string perché il codice di insegnamento è una stringa in posizione 1 c punto get codins eseguo la query e per ogni risultato quindi per ogni entry del result set crea un nuovo studente quindi studente s uguale new studente questa stringa l'ho copiata questo pezzo di codice l'ho copiato dal mezzo di sopra get tutti gli studenti perché in fondo gli studenti vengono creati nello stesso modo sempre passando la matricola il nome il cognome e il cds perché la stessa cosa che otteniamo sono gli stessi valori che otteniamo anche qui in SQL Pro adesso devo andarli a inserire dentro c quindi c punto get non ho però creato la lista di studenti all'interno di corso di corso del java bin corso perché se vi ricordate all'interno del java bin studente avevo creato questa lista questa array list dove salvare i riferimenti di corso la stessa cosa la devo fare all'interno dell'oggetto corso del java bin corso quindi se non nel java bin corso devo creare la lista una lista di studenti dove andare a salvare i riferimenti degli studenti scritti a quel corso private list studente studenti e poi nel costruttore vado a creare questa lista studenti uguale new array list di studente stessa cosa la faccio nei due costruttori e importo java util list quindi ricordiamoci che ovviamente per aggiungere devo avere una struttura data dove aggiungerli sia in studente che in corso e poi devo creare il corrispondente getter setter quindi source generate getter setter e generi getter setter per questa struttura dati quindi get studenti set studenti struttura dati che viene sempre inizializzata alla creazione di corso per cui non sarà mai nulla questo è importante perché in studente dao posso fare a questo punto il riferimento al corso dove andare a inserire gli oggetti quindi c. get studenti studenti quindi ottengo il riferimento alla lista di studenti che ho appena creato nel java bin punto add posso chiamare il metodo punto add perché non ho un riferimento a null ma ho un riferimento ad una lista perché l'ho creata prima nel costruttore quando ho creato l'oggetto corso che cosa aggiungo? non aggiungo direttamente s ma utilizzo quel pattern dell'identity map quindi add studente map punto get di s quindi non aggiungo direttamente l'oggetto s che ho creato ma aggiungo l'oggetto il riferimento che mi viene tornato da studente map stessa cosa che ho fatto nella scorsa lezione in corso DAO in corso DAO aggiungevo il riferimento a corso in corso DAO ho implementato questo metodo getcorsifromstudente iteravo sui vari corsi e aggiungevo all'interno della lista di corsi ciascun studente il riferimento che mi viene tornato da corso map in studente DAO implemento la stessa cosa relativa però a studenti e corsi agli studenti iscritti ad un determinato corso quindi itero sui vari studenti per ogni studente inserisco il riferimento all'oggetto studente che mi viene ritornato da studente map tutto è chiaro ovviamente questo metodo non ritorna nulla perché aggiunge solo dei riferimenti posso tornare nel model e vedo che adesso nel model tutto è abbastanza una volta che ho portato il database in memoria perché di fatto con questo codice sto portando tutto il database in memoria sia le informazioni relative alle varie entità studenti e corsi sia le informazioni relative alle relazioni in modo bidirezionale quindi sia dal lato dei corsi sia dal lato dei studenti ora risolvere questi punti del lab 4 è banale perché immaginiamo un metodo che mi debba ritornare quali sono i corsi a cui è scritto quali sono gli studenti a cui è scritto quali sono gli studenti iscritti ad un determinato corso come chiedeva il punto 3 quindi imprimiamo un metodo public list studenti get studenti from corso e viene passato a string codins allora adesso con il codice insegnamento potrei come prima fare una lista fare una ricerca lineare nella lista di corsi e cercare la corrispondenza tra il codice insegnamento che ha ricevuto questo metodo come parametro è quello dell'oggetto che sto scandendo della lista oppure posso sfruttare l'identity map perché in fondo l'identity map è vero che mi serve per implementare il pattern dell'identity map ma posso anche sfruttarla per ottenere in modo veloce i riferimenti degli oggetti esistenti tanto sono sicuro che tutti i corsi sono già nell'identity map perché per come ho creato la per come ho creato per l'implementazione del costruttore di model succede che tutti i corsi vengono inseriti in identity map quindi potrei fare corso c uguale corso map punto get qua però mi chiede il riferimento qua mi chiede però un oggetto corso io invece soltanto il code ins quindi ho due possibilità se voglio sfruttare l'identity map o creo un finto oggetto corso in cui setto soltanto il code ins e poi get sfrutta il metodo equals di corso che è definito sul codice insegnamento e quindi questo è il primo metodo però è un po' un trucco oppure ridefinisco crea un altro metodo get con una signature diversa che esponga effettivamente il metodo get della mappa è abbastanza indifferente però preferirei questa seconda implementazione perché è un pochino più pulita meno e meno crona ad errori quindi andrei in corso id map e definirei un metodo public corso get string code ins e questo metodo semplicemente ritorna quello che ritorna la mappa quindi return map punto get code ins qui diciamo che sto ingrandendo le funzioni sto espandendo le funzioni originarie della identity map torno in model quindi ottengo il riferimento a corso dato il codice insegnamento controllo che questo riferimento sia diverso da nulla perché è vero che ho detto che nella mia implementazione sono sicuro di aver inserito tutti i corsi che erano presenti nel database ma nulla mi vieta che l'utente inserisca un corso che non è presente nel database e quindi non voglio che il programma vada in crash quindi if c uguale uguale null return new array list di studente quindi se c è null semplicemente ritorno a lista vuota così qualunque cosa faccia il il test model non andrà in crash semplicemente itererà su una lista vuota e quindi non stamperà probabilmente nulla altrimenti quindi non scrivo else perché tanto finisco in questo finisco dopo l'if soltanto se c è diverso da null altrimenti return c.get studenti quindi dato il codice insegnamento ottengo un riferimento all'oggetto corso relativo col codice insegnamento ottenere gli studenti iscritti a quel corso adesso è banale perché ho implementato correttamente il pattern rm quindi ho tutte le informazioni in memoria tutto chiaro? avete domande? e ovviamente la stessa cosa la posso fare anche dal lato get la lista di corsi dato lo studente che è poi quello che chiede il punto 4 la ricerca di corsi a cui è scritto uno studente quindi public list corso get corsi from studente int matricola e devo fare la stessa cosa di prima quindi di nuovo tre possibilità ho itero sulla lista degli studenti e cerco la corrispondenza tra le due matricole come ho fatto in get tot credit from studente due sfrutto l'identity map creando un nuovo oggetto studente finto tre modifico aggiungo un metodo get nell'identity map per darmi riferimento all'oggetto studente dato la matricola secondo me il terzo metodo è il migliore perché sfrutto la potenza della mappa semplicemente aggiungendo un metodo e lasciando l'implementazione possibile pulita e quindi implemento di nuovo questo pattern quindi crea una variabile studente s uguale studente map punto get matricola vado all'interno di studente map crea un nuovo metodo get public studente get int matricola matricola semplicemente mi espone lo stesso metodo get della mappa sottostante quindi return map punto get matricola dove matricola è questo intero che è la chiave di della mappa che abbiamo creato dentro studenti di map quindi all'interno di model faccio la stessa cosa di prima controllo che il riferimento sia diverso da null se il riferimento è uguale a null semplicemente ritorno una nuova array list di corso ovviamente qui nulla mi vieta di ritornare null però l'importante è che poi all'interno del test model facciate il controllo che il valore ritornato sia diverso da null in genere nei metodi che ritornano una lista è brutto ritornare null a meno che proprio non sia specificato nella documentazione del metodo che implementate se il metodo ritorna una lista ritornate sempre una lista al massimo ritornate una lista vuota così evitate di propagare errori nel programma di aggiungere possibili condizioni di errore nel programma l'importante è che mettete sempre il controllo perché se voi scrivete return s.getcorsi ed s null ottenete una null pointer exception nel metodo getcorsi from student quindi fate sempre il controllo che il valore ritornato sia diverso da null e chiamate i metodi soltanto su oggetti che non sono null soltanto su riferimenti a oggetti che non sono null quindi abbiamo implementato anche questo terzo metodo proviamo solo a testarli per vedere che l'implementazione sia corretta quindi sono nel test model voglio testare il punto 3 e il punto 4 nel punto 3 ottengo una lista di studenti quindi list studenti result uguale a m.get studenti from corso codice insegnamento lo devo inserire mettiamo lo stesso che abbiamo scelto prima questo qua 0 1 nba pg list di studente importo già avuto il list poi ciclo su result quindi for studente s due punti result sys out s quindi stampo semplicemente gli studenti faccio il problema di result che l'ho già usato prima allora result studenti proviamo a eseguire il test model e ottengo quindi oltre al totale dei crediti per quello specifico studente anche la lista di studenti che sono iscritti a questo corso testiamo ancora l'altro l'altro metodo del model che è quello get corsi from studente crea una lista di corsi result corsi uguale m.get corsi from studente la matricola posso lasciare quella di prima 146 101 for corso c due punti risult corsi corsi sys out c semplicemente sto creando due metodi sto creando un piccolissimo pezzettino di codice per testare i metodi che ho creato prima nel model mi stampa gli studenti ma non mi stampa i corsi come mai commentiamo un attimo la parte di prima vediamo come mai non mi stampo i corsi dato quello studente andiamo nel model get corsi from studente matricola get corsi from studente matricola studente map aggiungiamo la cosa più semplice quando non capiamo cosa succede nel nostro programma mettiamo un punto di debug mettiamo la prima istruzione di get corsi from studente e debughiamo l'applicazione vado nel test model eseguo la mia applicazione in modalità debug mi si apre l'interfaccia di debug adesso eseguo istruzione per istruzione per capire cosa sta succedendo quindi studentemap punto get matricola qua mi dovrebbe ritornare un riferimento a s diverso da null infatti s è uno studente a cui sono associati dei corsi però questo s punto get corsi è nullo cioè non è nullo ma è vuoto quindi proviamo di eseguirlo ancora una volta perché per controllare che effettivamente sia vuoto s punto se vado qui in alto a destra posso controllare quali sono le informazioni associate a ciascun oggetto quindi vado all'interno di corsi e vedo che corsi è vuoto quindi vuol dire che non ho non li ho aggiunti prima quindi dentro studente dentro studente dentro studente mi sembra strano perché prima avevamo una lista di corsi associati a quello studente perché prima se metto il debug in quest'altro metodo quello get taught credit from student vado nel test model e decommento queste istruzioni poi riseguo il debug qua associato lo studente con i diventi avevamo una lista di corsi c'è qualcosa che non mi torna ah sì scusate ho fatto un errore stupidissimo ossia ho esattamente non fatto quello che ho detto di fare perché avevo detto creiamo un identity map per evitare di creare oggetti duplicati ed è proprio quello che ho fatto se ho creato oggetti duplicati perché la identity map relativa a studente map non l'ho passata al metodo get tutti studenti e quindi gli studenti che creo nella lista qua get tutti studenti sono diversi da poi quelli che vado a inserire nell'identity map in get studenti from course quindi devo modificare il metodo get tutti studenti passando il riferimento a studente map quindi vado in get tutti studenti modifico l'implementazione in modo tale da ricevere una studenti id map studenti map studenti id map e poi come facevo in corso dao dove aggiungevo questa lista corso map punto get c stessa cosa devo fare in studente dao quindi non è result punto add di new studente ma è studente s uguale new studente di res punto get int get string eccetera e poi result punto add studenti map punto get s ricordiamoci che abbiamo due metodi get quindi dobbiamo scegliere quello corretto quindi se adesso rieseguiamo il test model finite di copiare se adesso rieseguiamo il test model dovrebbe funzionare e quindi abbiamo anche la lista di corsi quindi questo è stato un ottimo esempio di cosa non fare e di quanto è pericoloso il fatto di creare oggetti duplicati riferiti allo stesso valore perché avete visto che l'implementazione sembrava corretta perché il metodo perché avevo due oggetti riferiti allo stesso studente ma due oggetti separati e quindi quando poi chiedevo la lista dei corsi in un oggetto c'era la lista dei corsi in un altro oggetto non c'era la lista dei corsi e questo era un problema perché avevo due oggetti che effettivamente rispondevano nello stesso modo ad equals ma uno con le informazioni e l'altro senza quindi ricapitolando qual è il pattern corretto creo i riferimenti al DAO creo le due ID map ho un metodo ho due metodi per ottenere tutti gli oggetti corsi e l'altro metodo per ottenere tutti gli oggetti studenti a cui però devo passare l'identity map quindi questi metodi aggiungono sia la lista che poi mi è ritornata sia l'identity map e poi aggiungo i riferimenti incrociati se il pattern è implementato correttamente poi tutto il programma funziona ed è molto più semplice vedete che poi l'implementazione di questi metodi di get studenti from corso e get corsi from studente è proprio semplice ultimissima cosa che dobbiamo fare per risolvere questo esercizio è quella di cosa devo fare? come si comporta il pattern RM se voglio aggiornare le informazioni nel database perché fino ad ora abbiamo visto come prendere semplicemente le informazioni dal database quindi avevamo una serie di punti a cui rispondere che però erano tutti punti che si risolvevano semplicemente leggendo senza scrivere quando scrivo è un pochino più complicato perché devo aggiornare sia le relazioni che in memoria sia le relazioni che sono salvate nel DB perché questo devo farlo? perché se aggiornare le relazioni in memoria è importante per mantenere la consistenza del programma perché se iscrivo uno studente a un corso e poi chiedo quali sono i corsi a cui quello studente è iscritto voglio trovare anche questo nuovo corso quindi devo farlo in memoria perché la lista dei corsi ottenere la lista dei corsi dato a uno studente lo faccio andando a vedere i riferimenti quindi andando a vedere quello che c'è in memoria nel programma però devo anche aggiornare le informazioni sul DB perché la volta dopo che eseguo il programma il programma carica in memoria le informazioni che sono presenti nel DB e quindi è necessario che questa informazione sia salvata anche in memoria quindi diciamo che implementiamo un metodo iscrivi studente a corso public boolean iscrivi studente a corso a cui passiamo una matricola e un codice di insegnamento questo metodo deve fare due cose aggiornare l'informazione nel DB e poi aggiornarla anche in memoria perché farla in questo ordine? perché se prima aggiorna in memoria e poi l'aggiornamento nel DB fallisce per un qualche motivo ad esempio perché la connessione al DB è saltata l'aggiornamento in memoria però l'ho già fatto e quindi non ho più la consistenza dei dati tra quello che è in memoria e quello che non è il DB quindi prima lo faccio nel DB dove effettivamente l'aggiunta potrebbe creare degli errori poi lo faccio in memoria ma l'importante è che entrambe le cose vadano fatte quindi aggiorno il DB e aggiorno i riferimenti in memoria è chiaro cosa intendo quando parlo di memoria memoria significa memoria RAM perché il programma è in esecuzione questi oggetti sono salvati all'interno della RAM però sono salvati soltanto durante il ciclo di vita del programma nel momento in cui il programma si chiude tutti questi riferimenti spariscono qui quindi non è un'informazione duratura è un'informazione legata al ciclo di vita del programma Java quindi aggiorno il DB ho bisogno di un metodo che mi ritorni un boolean quindi sdao.iscrivi studente a corso a cui però passo uno studente e passo un corso in realtà potrei passare anche in questo specifico caso matricola e codins però diciamo che secondo un pattern più meglio definito il model potrebbe sempre passare gli oggetti al DAO l'importante è essere consistenti avere un'implementazione che sia uguale per tutti i metodi possiamo scegliere di passare al DAO gli oggetti completi o semplicemente le informazioni che il DAO deve inserire è meglio passare gli oggetti completi perché secondo me è meglio passare gli oggetti completi perché il model non ha la visione su come poi questi dati vengono effettivamente salvati dentro il database non sa se effettivamente nel database vengono salvate soltanto la coppia di matricola e codice di insegnamento o se effettivamente viene salvato l'oggetto studente l'oggetto corso quindi secondo me il model non avendo visione di quello che succede nel DAO deve sempre passare riferimento agli oggetti riferimento agli oggetti che è semplice da ottenere perché basta che faccia la stessa cosa che facevo prima ossia corso map punto get codice e quindi ottengo riferimento a corso 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 map punto get codice quindi sfrutto di nuovo identità di map per ottenere riferimento all'oggetto corso legato a un codice di insegnamento e la stessa cosa la faccio per studente quindi studente studente uguale studentemap punto get matricola devo però stare attento ossia se uno dei due oggetti non esiste il metodo fallisce e questo è importante è importante quindi aver cercato l'oggetto corrispondente a questa informazione perché altrimenti avrei inserito nel DB quindi nella memoria persistente un'informazione che è scorretta perché è relativa ad uno studente o un corso che poi non sono effettivamente non si trovano effettivamente nel DB quindi vedete che abbiamo un doppio vantaggio uno la strazione ossia il model non conosce i tagli implementativi del DAO due serve per mantenere la consistenza dell'informazione quindi aggiungo una relazione solo tra due entità esistenti quindi if studente è uguale uguale a null o corso uguale uguale a null quindi se uno dei due è uguale a null allora return false quindi l'implementazione quindi il metodo fallisce non posso iscrivere uno studente ad un corso perché uno dei due non esiste altrimenti chiamo il metodo iscrivi studente a corso del DAO questo metodo a sua volta mi ritornerà un boolean quindi boolean result uguale sDAO punto iscrivi studente al corso if result quindi se il risultato è true quindi aggiornamento DB effettuato con successo allora aggiorno anche i riferimenti in memoria cosa significa aggiornare i riferimenti in memoria significa che devo aggiungere questo corso alla lista dei corsi seguiti da quello studente e devo aggiungere questo studente alla lista dei corsi alla lista degli studenti che seguono quel corso quindi studente punto getcorsi punto add codins scusate punto add corso e corsi punto get corso punto get studenti punto add studente quindi aggiorno i riferimenti incrociati occhio però a non inserire dei duplicati in base a come effettuiamo la query la query potrebbe ritornare un errore o meno se l'informazione è già presente nel DB siccome però le liste di riferimenti associate a corsi studente sono delle liste non sono degli hash set è possibile inserire i duplicati quindi per essere proprio sicuri di non fare errori io aggiungerei un controllo ossia if studente punto getcorsi punto contains corso e poi ci aggiungo un punto esclamativo all'inizio per per negare il contains quindi se studente se lo studente non è già iscritto a quel corso allora lo aggiungi e la stessa cosa lo faccio dal lato di corso quindi se diverso da corso punto get studenti punto contains studente quindi se nella lista di studenti associati a quel corso non è già contenuto lo studente allora lo aggiungo questo lo faccio perché in base a come scriviamo la query gli errori di doppio inserimento potrebbero essere ignorati e poi alla fine scrivo return result allora quindi se result è true aggiorno scusate return true quindi se aggiorno i riferimenti memoria alla fine ritorno true altrimenti ritorno false perché vuol dire che l'inserimento all'interno del DAO ha ritornato false quindi per ricapitolare per iscrivere lo studente a un corso devo sia aggiornare i riferimenti memoria che le relazioni nel DB prima ottengo gli oggetti relativi alla matricola del codice insegnamento lo ottengo utilizzando l'identity map controllo che questi riferimenti siano diversi da null se diversi da null vuol dire che uno dei due non esiste e quindi questo metodo deve ritornare false poi aggiorno il DB utilizzando il metodo iscrivi studente a corso se ha successo allora aggiorno anche riferimenti memoria controllando però di non aggiungere riferimenti duplicati e infine ritorno true perché il metodo ha avuto successo se invece l'inserimento nel DB è fallito quindi non entro in questo if ritorno false quindi c'è un pochino di logica per evitare di compromettere le informazioni o nel DB o in memoria ma alla fine è abbastanza semplice se vedete è tutto chiaro avete delle domande il metodo iscrivi studente a corso non l'implemento perché siamo un po' stretti come tempo perché volevo ancora farvi vedere il connection pooling ma è lo stesso che trovate già nella soluzione del Lab 4 quindi se andiamo nel Lab 4 in soluzione nel DAO ci dovrebbe essere già forse in corso DAO iscrivi studente a corso esattamente questo metodo qua facciamo copiarlo così ce l'abbiamo anche noi quindi andiamo in SDAO e copiamo questo metodo dalla soluzione del Lab 4 questo metodo semplicemente iscrive no perché sono un model volevo andare in studente DAO questo metodo semplicemente iscrive uno studente ad un corso quindi abbiamo questa qui reinsert ignore vedete che questo ignore ignora il risultato ignora possibili errori legati alla duplicazione di entry quindi se la stessa relazione tra quindi se già uno studente è iscritto a quel corso quindi se esiste la relazione tra matricola e codins e viene inserito un'altra volta viene ignorato l'errore ovviamente il dato non viene inserito due volte però viene ignorato l'errore relativo all'inserimento duplicato se togliete questo ignore ottenete un errore che poi dovete gestire corso qua abbiamo un errore perché corso.get codice insegnamento ok quindi abbiamo implementato anche questo secondo punto l'obiettivo era quello di farvi vedere come aggiornare le informazioni quindi non solo leggere ma anche aggiornare le informazioni rispettando comunque la relazione sia in Java che nel database qua il nome è un po' diverso si vede change to iscrivi studente a corso perché c'è un errore di di battitura quindi andiamo in studente dao ed è iscrivi non indiscrivi studente a corso quindi se è tutto chiaro è tutto chiaro avete domande ok pensateci se poi avete domande mandate una mail adesso come ultimo argomento per terminare la parte sul database riprendiamo le slide che ho aggiornato quindi non sono più dovete riscaricarle perché le ultime slide sono cambiate e vediamo il connection pooling ossia come migliorare le prestazioni di accesso al DB qual è il problema legato all'aprire una connessione con il DB quando siamo nella classe DB Connect quella che abbiamo implementato qualche lezione fa abbiamo implementato un metodo getConnection cosa fa questo metodo getConnection nell'implementazione implementa il metodo implementa il pattern singleton pattern singleton significa che una istanza di quella classe viene condivisa a tutti quelli che ne fanno richiesta e questa istanza dovrebbe essere l'istanza della connessione effettivamente effettivamente implementato correttamente il pattern singleton ritorna la stessa connessione a tutti i richiedenti tuttavia noi abbiamo aggiunto un controllo quell'if se vi ricordate se la connessione è nulla o se la connessione è chiusa creano una nuova siccome tutti quelli che fanno richiesta prendono una connessione la utilizzano e poi la chiudono anche se noi abbiamo implementato il pattern singleton in realtà creiamo una connessione ad ogni nuova richiesta questo perché è buona programmazione una volta acquisito una risorsa rilasciarla tuttavia c'è un problema legato alle connessioni con il database ossia creare una connessione con il database è costoso è costoso perché significa aprire un socket e l'apertura di un socket richiede del tempo perché bisogna passare dal sistema operativo che ci deve offrire l'apertura di un socket ricordatevi che il socket è un canale di comunicazione tra due end point che sono specificati dall'indirizzo IP sorgente e destinazione e dalla porta sorgente e destinazione quindi quel 3306 è la porta di destinazione su cui il DB è in ascolto i due indirizzi IP in realtà non li specifichiamo perché sono localhost perché entrambi sia il database che il sia il client che il database risiedono sulla stessa macchina però nulla vieta che siano su due macchine differenti quindi in quel caso dovremmo dire dovremmo specificare l'indirizzo IP di destinazione che non è più localhost quindi abbiamo detto che aprire un socket è costoso il socket richiede la portata connessione TCP IP una volta aperto il socket dobbiamo il programma il driver di GBC deve fare tutta una serie di operazioni per fare la richiesta per poi effettuare la query ci sono tutta una serie di operazioni accessori necessarie per poter eseguire una query come esempio il controllo dell'autorizzazione perché in un database ben strutturato ci sono diversi utenti ciascun utente ha associato un'autorizzazione quindi può fare alcune operazioni altre no le operazioni ammesse sono salvate all'interno di una tabella quindi va fatta una query all'interno della tabella relativa all'utente per capire se può fare l'operazione che sta per chiedere bisogna anche fare il controllo ad esempio della password di accesso perché quando noi diciamo utente root password qualcosa effettivamente viene fatta una query per controllare che quella password esista nel DB e sia associata a quell'utente queste operazioni sono tutte accessorie che non riguardano effettivamente la nostra query vanno fatte prima alcune vanno fatte prima alcune vanno fatte dopo ma sono tutte operazioni che devono essere sicuramente fatte ad ogni apertura di connessione con il DB e quello che noi facciamo attualmente stiamo facendo i nostri programmi è prendere una connessione fare un sacco di operazioni per poter accedere al DB facciamo la nostra query magari semplicissima e poi chiudiamo la connessione e se ci pensate è un po' uno spreco perché se facciamo un sacco di operazioni accessorie perché non sfruttarle più di una volta perché tra una query e l'altra non possiamo riutilizzare la stessa connessione al DB questo è il primo problema quindi un problema di ottimizzazione cercare di sfruttare le operazioni che abbiamo fatto una volta e sfruttare una seconda volta poi c'è anche un altro problema ossia che è il seguente se il nostro programma fa un sacco di query quindi fa query molto frequenti è possibile che la velocità con cui vengono fatte queste nuove query e quindi vengono richieste vengono richiesti nuovi socket sia maggiore rispetto alla velocità con cui questi socket vengono rilasciati e chiusi perché anche se noi facciamo connection close nell'implementazione sottostante della Java Virtual Machine ci sono tutta una serie di ottimizzazioni che fanno sì che le risorse magari non vengono rilasciate proprio quando noi facciamo connection.close e quindi magari questi ritardi questi ritardi dovuti a questa ottimizzazione super spinta nella Java Virtual Machine per far sì che il programma giri il più veloce possibile fanno sì che a un certo punto in alcuni programmi otteniamo un errore che è Too Many Connections un'eccezione del driver di JDBC che ci dice non puoi aprire più socket perché li hai esauriti allora uno dice va bene cambio il limite c'è un limite che è impostabile del numero massimo di socket che possono essere aperti lo cambio da numero che è da mille passo a diecimila ottimo però stiamo semplicemente spostando il problema perché basta fare più query e di nuovo otteniamo la stessa eccezione poi ricordiamoci che il numero di socket il numero massimo di socket che possono essere aperti è finito perché come detto i socket viene identificato da indirizzi di sorgente destinazione porta sorgente e porta destinazione indirizzi p sorgente destinazione e porta destinazione non possono essere cambiati perché identificano i due end point identificano il servizio a cui vogliamo collegarci quello che può essere unica variabile è la porta sorgente che su 16 bit quindi vuol dire 65.000 valori massimo alcuni e ovviamente prima o poi si esauriranno quindi anche se noi impostiamo il massimo numero di socket possibili è possibile che la nostra applicazione particolarmente db intensive a un certo punto mandi in crash java quindi abbiamo due problemi uno di ottimizzazione e uno legato ad una possibile eccezione che il nostro db potrebbe che il nostro driver potrebbe scatenare perché stiamo aprendo troppe connessioni in entrambi i casi come facciamo a risolvere entrambi i casi possiamo utilizzare un pattern che è quello della connection pool qual è l'idea della base di connection pool ho un pool quindi un insieme di connessioni che vengono aperte appena attivo la mia connection pool e rimangono aperte quindi rimangono disponibili per chiunque ne faccia richiesta e quando il client quindi quando il metodo che prende una connessione e poi la chiude quindi quando il client ha finito di fare la sua query e chiude la connessione questa connessione non viene effettivamente chiusa ma semplicemente la connection pool si ricorda che questa connessione è disponibile per altri quindi è importante che il client continui a fare la close dopo aver acquisito una connessione perché questo indica alla pool che quella connessione lì è disponibile ad altri ma effettivamente alla close non corrisponde la chiusura della connessione con il DB quindi nell'implementazione sottostante della libreria di connection pooling la connessione non viene mai chiusa ma viene mantenuta in questa pool in questo insieme per altre richieste questo fa sì che tutte le operazioni accessori di cui abbiamo parlato prima quindi il controllo dell'autorizzazione l'apertura del socket l'inizializzazione del result set del prepare statement eccetera tutte queste cose qua vengono fatte una sola volta e vengono poi quindi si massimizza l'efficienza la prima volta che chiedo una connessione sì ci sarà un po' di delay ma è quello che otterrei come ogni volta che apro una nuova connessione la seconda volta invece mi trovo una connessione già aperta che posso subito utilizzare senza dover perdere tempo in operazioni accessorie quindi come si fa ad utilizzare questo metodo questo meccanismo del connection pooling JDBC offre due interfacce una connection una data source l'interfaccia connection è quella che serve a dare una singola connessione data source invece serve per implementare il connection pool e poi sono i diversi driver che vanno effettivamente a implementare queste due interfacce con l'implementazione concreta per fortuna noi ci appoggiamo ad una libreria quindi in realtà il codice cambierà pochissimo come vedremo ma le prestazioni cambieranno molto vediamo questo set di benchmark questo set di benchmark credo che si riferisca alla stessa query semplicemente ripetuta più volte ripetuta cento volte mille volte o tre mila volte tra l'altro potrebbe anche esserci no sì sì corretto cosa succede in questa query se non utilizzo il pooling in tutti in tutti i casi se non utilizzo il pooling le prestazioni sono nettamente inferiori perché ogni volta creo una nuova connessione e quindi non viene ne fatto cache dei risultati e ne sfrutto la stessa connessione quindi il tempo legato all'accesso di B è proporzionale al numero di iterazioni che faccio vedete che c'è un fattore 10 ad esempio tra le cento iterazioni e le mille iterazioni quindi dura un fattore 10 in più nel caso delle mille iterazioni ne facessi 10.000 al posto che impiegare 43 secondi ne impiegherebbe 430 invece il connection pooling ha un tempo costante tra l'altro qui sono particolarmente bassi i numeri perché credo che la query sia la stessa questi benchmark si riferiscono alla stessa query eseguita più volte e a seconda della libreria il connection pooling fa anche il cache dei risultati quindi se la query è la stessa non viene neanche più rieffettuata effettivamente ma si cerca di sfruttare i risultati della query precedente questo spiega questi tempi estremamente bassi se invece le query sono differenti i tempi saranno più alti cresceranno linearmente con il numero di query ma saranno comunque più bassi di uno o più ordine di grandezza rispetto al creare ogni volta una nuova connessione in pratica come facciamo ad utilizzare il connection pooling? ci affidiamo delle librerie ne esistono tante una particolarmente in voga attualmente è la Ikari connection pooling di Ikari CP quindi una libreria open source per aggiungere la capacità di connection pooling al driver di JDBC quello che fa di fatto è fare connection pooling quindi mantenere questo insieme di connessioni aperte e darli ai client quando questi sono interessati riguardo invece al prepare statement cache quindi al cache del prepare statement altre librerie lo implementano a livello proprio di libreria Ikari dice no secondo me è meglio farlo a livello del driver quindi la cache prepare statement non viene gestito da Ikari ma permette di settarlo quindi tramite la libreria Ikari possiamo settare il cache del prepare statement a livello del driver questo fa sì che poi qualche driver lo implementerà qualche driver non lo implementerà a seconda del database che stiamo utilizzando a seconda del driver che stiamo utilizzando ci potrebbe essere questa opzione o meno nel caso di MySQL MariaDB eccetera c'è questa ottimizzazione quindi possiamo sfruttarla nel caso di credo Microsoft SQL server non c'è però tanto non lo utilizziamo quindi non è un nostro problema attualmente questi sono i siti web di riferimento quindi abbiamo la pagina dove viene dove si racconta di Ikari la pagina ufficiale e poi abbiamo anche la pagina di GitHub la pagina di GitHub dove invece troviamo proprio l'implementazione della libreria giusto per farvi vedere quanto questa libreria è veloce questo è il numero di cicli di connessione che possono essere effettuati al millisecondo ciascuno nel millisecondo vedete che C3P0 che la libreria che utilizzavamo l'anno scorso può fare 234 cicli invece questo Ikari ne può fare addirittura 50.000 adesso i benchmark vanno sempre presi un po' con le pinze vanno visti bisognerebbe vedere anche come questi benchmark sono stati ottenuti comunque generalmente ottiene delle prestazioni veramente ottime per l'accesso al DB stiamo parlando semplicemente di aggiungere una libreria al nostro programma qui molto spesso magari un'ottimizzazione grossa si ottiene cambiando anche solo la libreria a cui ci appoggiamo adesso noi stiamo facendo dei programmi semplici dove le query sono limitate dove anche le informazioni che otteniamo sono limitate pensate ad esempio ad un web server quindi ad un server che è scritto per dare delle in output delle delle pagine html con un contenuto dinamico come di fatto il web funziona quindi tutti i siti web danno in risposta un contenuto dinamico in base alle richieste che facciamo siccome il contenuto lì è veramente dinamico e molto probabilmente questa informazione è salvata in diverse da pelli in diversi database è importante che le prestazioni siano esasperate perché non vogliamo alcun delay nella nostra nelle nostre richieste quindi per utilizzarla come facciamo questo preso dal dal sito della pagina di github del readme di github semplicemente creiamo un un'istanza della classe cariconfig che serve per configurare la la libreria qui passiamo le stesse informazioni che passavamo prima quindi la jdbc url lo username la password possiamo specificare delle una configurazione di mysql come ad esempio in questo caso stiamo specificando di fare la cache prepare statement quello che dicevo prima ma non siamo obbligati a scrivere queste istruzioni creiamo un oggetto data source che implementa quindi l'interfaccia di jdbc data source a cui passiamo la configurazione precedentemente creata e poi sul data source chiamiamo get connection quindi semplicemente modificando queste poche righe all'interno della classe dbconnect siamo in grado di aggiungere la funzionalità di connection pooling come facciamo a chiuderla a livello della funzione dao non cambia assolutamente nulla quindi la funzione dao l'implementazione non cambia fa sempre get connection e fa sempre close quello che cambia è l'istruzione associata l'implementazione associata alla get connection e a close infatti get connection ora non aprirà più una nuova connessione ma farà richiesta al pool di connessioni aperte di una connessione close non la chiuderà ma semplicemente la rilascerà pronta per essere riutilizzata da un'altra funzione del dao alla fine potremmo anche distruggere il connection pool perché il connection pool apre una serie di connessioni poi dovremmo anche chiuderle però l'implementazione estremamente corretta questa chiusura del connection pool è necessaria e dovrebbe essere fatta nel metodo stop legato ad esempio a java fx perché ciascun controller il metodo scusate un progetto java che implementa il progetto java fx nel main poniamone uno qualsiasi ha un metodo start e poi un metodo stop in realtà noi abbiamo sempre implementato il metodo start ma il metodo stop ma questa è stata la nostra scelta perché noi abbiamo sempre implementato il metodo start all'interno del main perché nel start dobbiamo fare il loading dell'fxml dobbiamo caricarlo dobbiamo caricare l'fxml e creiamo il model eccetera però nulla ci vieta di fare anche l'override del metodo stop che come potete capire come potete immaginare verrà chiamato quando il ciclo di vita dell'applicazione java fx termina quindi nel metodo stop quello che facciamo è semplicemente uccidere il i cari data source in realtà quando il programma termina comunque rilascia tutte le risorse in automatico quindi potremmo evitare anche di farlo quindi nei nostri programmi non lo facciamo se avete però un'applicazione con un ciclo di vita più complesso dove magari vengono fatte diverse cose l'applicazione è creata per non essere mai spenta quindi per girare all'infinito allora in quel senso in quell'implementazione ha senso distruggere le risorse acquisite quindi qua finisce la parte sul database poi avete una serie di riferimenti come al solito se volete approfondire diversi aspetti della dgdbc o rm eccetera vediamo negli ultimi dieci minuti come implementare effettivamente questo data source questo connection pooling semplicemente allora continuiamo a lavorare su questo esercizio rm andiamo in connect db copiamo connect db e creiamo una nuova classe connect db cp giusto per vedere le differenze in termini di prestazioni e modifichiamo aggiungendo le istruzioni che Icari ci dice di aggiungere per farlo funzionare se andiamo nel redmi vediamo a un certo punto c'è inizializzazione c'è una sezione di inizializzazione con delle istruzioni su come far funzionare i cari che sono le stesse che poi ho riportato nelle slide quindi le copiamo andiamo in nel progetto java e le incolliamo in get connection e poi cerchiamo un attimo di modificarle get connection vogliamo ancora che continui vogliamo che continui ad implementare il pattern singleton quindi crei una sola istanza di data source per farlo allora devo definire una variabile private static globale di Icari data source che chiamo ds poi in get connection mi chiedo ds è uguale uguale a null quindi è la prima volta che sto chiamando il metodo get connection se è così allora creo la configurazione e poi creo anche il data source dove jdbc url è la stessa di prima semplicemente tolgo user uguale a uguale a root quindi qua posso scrivere jdbc url in username scrivo root e in password non metto nulla quindi questa è la configurazione per accedere al db queste sono alcune property che noi settiamo per avere per avere il cache del prepare statement però a livello del driver di mysql quindi questa è la configurazione di mysql e poi infine creiamo il data source il try catch cambia e in particolare nel try noi scriviamo return ds punto get connection e togliamo questo return quello che adesso manca ovviamente è la libreria icari data source come facciamo a scaricarla allora il modo più semplice per farlo è se andiamo su google e scriviamo icari cp che è il nome della libreria maven maven è il repository con tutte le librerie java quindi andiamo sul primo maven repository icari cp selezioniamo la versione prendiamo la 3.1 e poi clicchiamo su bundle e questo cliccando su bundle ci scarica lo zip con tutti i jar o addirittura ci scarica soltanto il jar relativo ai cari cp questo qua icari cp trattino 3.1.0 icari cp per funzionare richiede anche un'altra libreria che si chiama slf 4j questa è una libreria di logging la libreria di logging serve semplicemente per stampare quello che sta succedendo è comune in tutti i progetti un pochino più complessi logging significa semplicemente fare delle stampe a video usare una libreria di logging permette di associare a queste stampe una diversa priorità esempio ci sono dei log relativi al debug dei log relativi agli errori dei log critici relativi a condizioni di errori particolarmente severe eccetera quindi non fa null'altro che gestire questo logging però è necessario per far funzionare i cari cp quindi dovete scaricare dovete andare su slf4j.org e scaricarvi questo zip il link lo trovate anche nella sezione materiale del corso che ho aggiornato quindi non trovate più il vecchio link alla libreria c3p0 che utilizzavamo l'anno scorso ma trovate i due link di cari cp e di questa libreria scaricate lo zip e poi andiamo a importare le librerie corrispondenti quindi torniamo in esercizio rm e in lib aggiungiamo sia il riferimento a i cari cp dove copiamo la libreria non aggiungiamo solo il link e poi riguardo a slf4 eccetera dobbiamo di tutti questi jarri dobbiamo aggiungerne solo due quello che si chiama slf4j api e slf4j jdk quindi li copiamo e li aggiungiamo all'interno di lib poi selezioniamo questi tre che abbiamo appena aggiunto build path add build path quindi semplicemente abbiamo scaricato le librerie già compilate l'abbiamo fatto tramite maven tramite il sito slf4j le abbiamo importate nel build path quindi sono disponibili adesso le aggiungo le importo nel mio progetto quindi ho concluso anche l'implementazione di connect db connection pooling cp vedete che non è cambiato molto semplicemente è cambiato l'implementazione del metodo get connection dove controlla se ds null se ds null crea una configurazione la passa al data source crea un oggetto data source questo viene fatto soltanto la prima volta che affettuiamo una nuova che chiamiamo il metodo get connection tutte le altre volte semplicemente entreremo in questo try catch che ritorna una connessione dal data source l'implementazione di tutti i metodi del DAO non cambia perché tutti i metodi fanno connectdb.getconnection e connection.close è importante fare la close perché altrimenti esaurisco le connessioni del data source e poi nulla funziona quindi l'implementazione del DAO non cambia quello che è cambiato soltanto è connectdb quanto è cambiata sarebbe bello fare un un test ma adesso abbiamo esaurito il tempo ad esempio potremmo crearci un metodo nel DAO che prima ottiene tutta la lista di studenti e poi per ciascuno studente mi chiedo se quello studente è scritto in determinato corso quindi passo una matricola ed un codice di insegnamento iterando su tutti gli studenti vedendo se quello studente è scritto a questo codice di insegnamento questo è fatto soltanto per generare un sacco di query e alla fine quello che vediamo è che confrontando le due librerie quella quelle due implementazioni quella senza connection pooling quella con connection pooling c'è quasi un fattore 10 di differenza adesso mi spiace di non riuscire a farlo ma vi aggiungo l'implementazione con il test nel codice che carico su GitHub così potete provarlo ma è semplicemente una query un po' corposa che viene ripetuta 10 volte e poi si calcola la media del tempo di durata quindi guardate poi l'implementazione nella soluzione per vedere le differenze d'ora in poi per favore utilizzate sempre il connection pooling quindi utilizzate sempre questa connectdbcp connection pooling anche perché vedrete che non cambia nulla nell'implementazione del vostro programma ma le prestazioni aumenteranno senza fare praticamente con pochissimi cambiamenti direi che possiamo concludere qui ci vediamo mercoledì buona giornata grazie a tutti